ciao sono davide di lorenzo e mi sono laureato all'università dell'insubria in chimica oggi potremmo dire che io stia continuando ancora il mio periodo di formazione perché grazie agli studi fatti sono riuscito ad aggiudicarmi una posizione di dottorato all'estero devo ammettere che in termini generali le competenze le nozioni acquisite le esperienze fatte ma soprattutto la preparazione di professori presso l'università dell'insubria è assolutamente di alto livello sento assolutamente di consigliarvela